Musica Bella tutti burloni, sono Marci e buon anno ragazzi, buon anno Perché sì ragazzi, questo è il primo, primissimo video dell'anno Ho deciso di caricarlo proprio a mezzanotte Perché ormai anche quando avevo un canale piccolissimo lo facevo Perché era una cosa che mi piaceva ed è diventato appunto un rito E che dire ragazzi, sotto nei commenti scrivete con hashtag MarciProposito Un proposito che avete per quest'anno o i propositi che avete per quest'anno Io ne ho numerosi e ragazzi dopo aver chiuso un 2015 veramente bellissimo Perché credo che il 2015 finora sia stato l'anno più bello Per la mia carriera di Youtube, per la mia vita eccetera Perché è stato un anno fantastico Abbiamo chiuso 40.000 iscritti Anche grazie alle ultime collaborazioni che abbiamo che ho fatto E spero che vi stiano piacendo anche questi mini game Anderanno ragazzi tantissime serie che mi avete chiesto in tantissime Come per esempio la survival Ho veramente lì dove c'ho il computer una marea di messaggi con scritto MarciProposito Ma la survival ragazzi continuerà, riprenderemo dall'episodio 8 Riprenderemo dall'episodio 8 proprio come l'avevamo lasciata Quindi ragazzi mi raccomando fatemi sapere sotto nei commenti i propositi che avete per quest'anno E ragazzi buon anno ancora a tutti A voi, a tutte le famiglie Io sapete che vi voglio bene Siamo 40.000 burloni ragazzi E adesso road to 50.000 Ci vediamo in un prossimo video oggi Perché ormai è mezzanotte alle 18 So back to what I was say